Ciao a tutti ragazzi, dopo qualche mese oggi faccio il video di Skyfibra aggiornato a SkyQ o per meglio dire faccio l'aggiornamento insieme a voi perché sono andato a prendere da pochissimo il telecomando dovrete andare in uno Sky Service per cambiare il vostro telecomando e aggiornare il vostro decoder allora qualche differenza con SkyQ mi è già stata fatta qualche domanda sotto il video precedente possiamo utilizzare il Multivision ho chiesto all'assistenza e purtroppo con Skyfibra più SkyQ non avremo la possibilità di attivare il Multivision però avremo le altre novità come la possibilità di registrare tre programmi insieme la possibilità di vedere Netflix e avere tutte le applicazioni come YouTube, Spotify eccetera eccetera e altri vantaggi come l'interfaccia più intuitiva e contenuti a portata migliore ok, allora andiamo a vedere, io ho appena acceso il decoder e ho acceso la TV e come primo step mi è stato detto in assistenza che per configurare il telecomando dovremo tenere premuto il tasto 1 e 3 in caso non andasse buon fine, in pratica dovremo resettare il telecomando spingendo contemporaneamente 7 e 9 ok, allora, prime considerazioni sul telecomando molto simile alla versione precedente con la differenza, adesso non so se si riesce a vedere, qui abbiamo il pulsante per i comandi vocali se abbiamo tempo proveremo anche i comandi vocali detto questo, nella prima schermata come potete vedere ci viene chiesto il modello della TV andiamola a inserire, io ho tra virgolette preso il modello della TV premi 2,8 simultaneamente per circa 2 secondi, inserisci il codice di 4 cifre per la tua TV prova a modificare il volume per verificare la configurazione e se è data buon fine ok, funziona, direi, vedi e proviamo 2,8 per 2 secondi, per circa 2 secondi inserisci il codice di 4 cifre per la tua TV che però non so, proviamo un attimo a tornare indietro allora, no, non funziona allora, cerchiamo la TV che è un Panasonic allora, vediamo no, ho già sbagliato ok per cancellare, cancellare come si fa ok Panasonic il bello delle configurazioni al volo perfetto, Panasonic allora, se non conosci il codice del modello, seleziona, cerca allora, inserisci allora, vediamo anzi, andiamo su cerca, se per caso riusciamo a trovarlo io ce l'ho qua sotto, sul telefonino inserisci il codice allora, premi i testi 268 inserisci il codice 16, ok perfetto il volume non funziona no allora, indietro funziona, no e come cavolo faccio andare avanti oh, premi i tasti 2 e 8 simultaneamente per circa 2 secondi proviamo a mettere sì anche se non funziona ora, il tuo telecomando SkyQ controlla l'accensione e il volume delle sergenti della TV ma, io non ce l'ho allora, controlla un theater vuoi programmare? no, non me ne frega il tuo telecomando SkyQ è stato configurato allora, sinceramente non ho capito bene questo passaggio ma continuiamo ad andare avanti se no, non finiamo il tutorial però sappiate che questa prima fase almeno per quanto mi riguarda non ha funzionato però dopo vediamo se funziona tutto diciamo che potrete anche ignorare come ho fatto io continua solita privacy a consento ricerca solo canali in chiaro ricerca tutti i canali facciamo ricerca tutti i canali vediamo di trovare già tutti i canali il tempo di effettuare la ricerca dopo magari mandiamo un po' avanti il video ok ragazzi stiamo arrivando alla fine 206 canali trovati allora ok abbiamo trovato i canali allora vediamo un attimo configurazione di conflitto mettiamo HD rete 4 canale 5 HD Italia 1 HD ok ok vediamo HD qui ho trovato doppi canali quindi devo selezionare quello in teoria migliore allora va bene va bene va bene va bene sto andando un po' a caso ok continua la configurazione è stata completata con successo selezioni inizia per scoprire l'esperienza di visione SkyQ allora passiamo un attimo il volume qua c'è anche il cane che abbaia ok inizia ah fantastica guardate qua allora un'altra cosa ovviamente considerate che questa è la mia prima volta con SkyQ e ovviamente rispetto all'altra interfaccia è completamente diversa quindi ve la mostro per la prima volta con SkyFibra vi ricordo che tra virgolette il video è interessante perché con SkyFibra sta aggiornando a SkyQ ok intrattenimento serie tv cinema diciamo che abbiamo tutto quello che avevamo prima ma sul menu di sinistra e quindi possiamo trovare tutto quello che ci interessa ma andiamo a vedere ad esempio una delle novità sono le app allora a differenza della precedente interfaccia in sezione app ad esempio Netflix è una cosa nuova che potremmo andare a potremmo andare a inserire o il nostro abbonamento oppure acquistare Netflix direttamente all'interno di Sky qui abbiamo Dasn poi qui abbiamo altre applicazioni come YouTube, Spotify e altre ancora ok l'altra cosa che avevo detto all'inizio del video è che possiamo avviare tre registrazioni simultaneamente ho provato a chiedere cosa mi permette di fare SkyQ all'assistente ecco purtroppo Multivision non si può attivare e diciamo che in generale le differenze sono più nell'interfaccia e queste piccole cose che vi sto dicendo allora un'altra cosa che mi era stato chiesto nel video precedente come mi trovavo con SkyFibra allora dopo diversi mesi di utilizzo posso dire che SkyFibra funziona bene i canali che però passano dal digitale terrestre quindi via cavo perché la cosa che forse non ho detto forse l'ho detta nel video precedente è che alcuni canali passano tutto tramite fibra e lì nessun tipo di problema mentre sui canali che magari passano sul digitale terrestre alcuni giorni funzionano molto bene in alcuni giorni vanno un po' a scattini ok per tutto il resto diciamo che abbiamo un'esperienza uguale alla SkyCon abbiamo un'esperienza molto simile se non identica a SkyCon parabola ok allora l'aggiornamento è andato a buon fine vediamo se i comandi vocali funzionano ad esempio ok vediamo Sky mi dispiace non ho capito riprovo tenendo premuto il pulsante ah ok bisogna tenere premuto il pulsante laterale vediamo apri Netflix oh sta guardate che figata ha preso il comando e ha aperto Netflix ok metti su Italia 1 vediamo adesso sta facendo ok adesso ha aperto l'applicazione Netflix niente ho appena scoperto che per attivare i comandi vocali dobbiamo essere su Sky vediamo metti Italia 1 ok guardate che figata ci mette il canale che vogliamo diciamo che forse il comando vocale adesso lo utilizzerò sicuramente perché funziona molto bene allora passa a Sky Cinema ottimo capisce molto bene sembra una cavolata ma i comandi vocali sono veramente ottimi allora canale 301 guardate è una scheggia ragazzi allora diciamo che a parte il primo inghippo anche se comunque ho visto che facendo ignora i comandi vocali o comunque la tv insieme al decoder funziona almeno correttamente sappiate che potete ignorare almeno nel mio caso anche perché non sono riuscito a fare quello che mi veniva segnalato sulla tv e come potete vedere però diciamo che la configurazione è andata a buon fine abbiamo la configurazione vediamo Sky torna alla home page se capisci anche ok Sky torna alla schermata principale vediamo quanto è intelligente non trovo già di cerca ok vabbè era giusto per provare quanto era intelligente e niente questo è l'aggiornamento di Skyfibra a SkyQ spero che il video sia stato interessante e noi ci vediamo col prossimo video ciao niente ragazzi dopo che ho spento il video ha funzionato volevo far vedere Sky torna in home page eccolo qua come potete vedere è riuscito a capire anche questo non so perché prima non l'ha capito volevo fare anche qualche prova vediamo se magari fa anche da assistente vocale perché non so le potenzialità del riconoscimento vocale che tempo fa oggi? oh sta però sta caricando vediamo se dà qualche risultato oh sta guardate ha messo il canale del meteo non siamo a Roma però cavolata riesce a capire anche questa cosa metti radio 105 una figata ragazzi anzi no qui ha messo canale 5 non ha messo la radio metti musica guardate qua musica raccontami una barzelletta come mi chiamo ok ovviamente non è fatto per darmi risposta ma più che altro è per cercare informazioni e niente era giusto per farvi vedere che funzionava anche il ritorno a casa e spizzarritevi anche voi a trovare i vari comandi vocali per accedere ai vari contenuti ciao